Innovazione, tutela ambientale, preservazione del pianeta e sviluppo economico sono le leve della mostra Il mio pianeta dallo spazio, fragilità e bellezza in corso a Roma a Palazzo delle Esposizioni fino al 2 novembre. A presentarla in un'apertura straordinaria è stato il direttore del programma Osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea Volker Liebig, guida d'eccezione che ha illustrato punto per punto le immagini riprese dai satelliti europei che costituiscono il cuore dell'esposizione. In prima fila ad ammirare i pannelli della mostra l'amministratore delegato della NASA Charles Bolden. L'esibizione dei segreti dello spazio al grande pubblico vuole spingere a prendersi cura del nostro pianeta, facendo capire il ruolo della scienza e della tecnologia spaziale in una missione che sta a cuore a tutti. Il nostro pianeta sta cambiando molto velocemente, spiega Liebig. Ora siamo 7 miliardi di persone e il numero è destinato ad aumentare. Diventeremo 9 miliardi a metà del secolo, quindi dobbiamo prenderci cura del nostro pianeta. Abbiamo tanti punti da seguire, monitorare quello che sta succedendo, analizzare gli interventi nell'agricoltura, controllare le foreste, l'innalzamento dei mari ad esempio. Sono tanti parametri da tenere presenti per prendere le decisioni migliori per il nostro pianeta e per come gestirle in futuro, quando ci saranno 9 miliardi di persone da sfamare. L'osservazione della Terra è possibile grazie alle costellazioni di satelliti che costantemente tengono sotto controllo tutto quello che succede, un'alleanza internazionale volta a garantire un futuro migliore. Quello dell'Agenzia Spaziale Europea è un ambiente efficiente e complesso. Abbiamo 20 nazioni europee che lavorano insieme, fanno insieme cose che sarebbero irrealizzabili per una nazione sola. Collaborazione è la parola chiave, internazionale, positiva, senza competizione, ma con lo scopo di progredire insieme nella conoscenza e nell'innovazione. 50 anni di collaborazione con l'ESA, con la NASA e nello settore spaziale. Siamo passati dagli anni dell'esplorazione eroica, della competizione fra sue potenze, a uno spazio che sempre di più è pensato per l'osservazione scientifica e, in questo caso, per l'osservazione della Terra con tecniche che ci permettono sempre meglio di controllare il pianeta, di renderlo abitabile in modo compatibile con l'ambiente. Questa mostra introduce questo tipo di tecnologia al grande pubblico. Satelliti in grado di vedere con degli occhi sempre più sofisticati, più raffinati, dei fenomeni che facciamo fatica a controllare se stiamo attaccati alla Terra. Dallo spazio si hanno punti di vista differenti e per risolvere i problemi molto spesso cambiare punto di vista è decisivo. Questo è quello che noi stiamo facendo con i satelliti tipo Cosmos SkyMed, i satelliti di Copernico, sostenendo l'ESA in questo ambizioso, bellissimo programma di osservazione della Terra con tutti gli occhi possibili, sensori possibili per capire come meglio viverla senza distruggerla. Le immagini riprese dallo spazio permettono di cambiare punto di vista. Spesso è questo che ci permette di risolvere problemi su cui ci arrovegliamo da tanto, spiega il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston. Dallo spazio possiamo capire dove noi ci troviamo esattamente e questa mostra permette a tutti di comprenderlo. L'esposizione contiene una carica eccezionale di futuro. I bambini di oggi cresceranno in un mondo più facile da vivere, anche grazie alla tecnologia spaziale. Gli astronauti che vanno nello spazio capiscono istantaneamente cosa vuol dire un pianeta così fragile e così bello. Il grande pubblico non può andare nello spazio. Per renderlo conscio di che cosa voglia dire questo pianeta occorre mostrargli queste immagini, occorre fargli capire a cosa servono. Sono meravigliose di per se stesse, ma nascondono dietro di ogni di esse, ciascuna di esse nasconde, un'informazione, una tecnologia, degli aspetti che sono poi utili per delle scelte quotidiane nei vari paesi, nei vari ambiti commerciali e anche nelle varie singole persone a seconda dei casi.